Ciao a tutti, questo è l'ultimo giorno dell'anno, c'è chi pensa alle cose positive che sono successe, c'è chi pensa alle cose negative, tra le cose negative che sono successe quest'anno c'è sicuramente la chiusura di TVblog. TVblog è un sito che noi a Detto ai Lavori seguiamo da sempre, anche chi ha Detto ai Lavori non è, chi ha la passione della televisione, chi ci segue da casa, i telespettatori da casa e TVblog ha chiuso. Questi lavoratori non si rassegnano però alla chiusura di questo sito e ne apriranno un altro che si chiama Altro Spettacolo. E per me questo va assolutamente premiato, per cui mi piace quando dei lavoratori non mollano, mi piace quando dei lavoratori contro tutto e contro tutti vogliono continuare questa esperienza. Per cui cari amici, addio a TVblog purtroppo, però benvenuto come il 2018 a questo Altro Spettacolo, sito da seguire e naturalmente da appoggiare, non solo da noi che facciamo parte di questo mondo, ma anche da voi che ci seguite da casa, perché alla fine la forza nostra siete voi. Buon anno a tutti e in bocca al lupo Altro Spettacolo! Grazie! 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 Grazie!